L'ordinanza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli vieta i botti di fine anno, i fuochi d'artificio in Piazza Grande ma anche in alcune zone limitrofe ma è facile pensare ovviamente che appunto dove sarà consentito poterli esplodere gli aretini sceglieranno di farlo per festeggiare l'arrivo del 2020. Per questo arrivano le importanti raccomandazioni da parte dei vigi del fuoco di Arezzo. Sì, diciamo che le raccomandazioni riguardano le tre fasi, sia a cominciare dall'acquisto, la detenzione e lo sparo. Sull'acquisto è la parte più importante, la raccomandazione è di servirsi presso esercizi autorizzati. Meno affidabili sono le bancarelle e gli improvvisati anche dove vendessero artifici di libera vendita. Dopo l'acquisto, nel quale magari possiamo fare attenzione a vedere che ci sia il marchio CE sui prodotti che già ci dà garanzia di una certa sicurezza, la seconda fase è quella di provvedere a loro conservazione in maniera idonea, quindi tenerla in locali idonei, lontani da fonti di calore e da possibili inneschi. Poi, la raccomandazione è assolutamente vietare l'uso ai bambini, in quanto gli artifici, nella migliore delle ipotesi, quelli più semplici, possono essere utilizzati da ragazzi sopra i 14 anni, ma più in generale sarebbero più adatti agli adulti. Se l'artificio non esplodesse, non bisogna riavvicinarsi, attendere 30 minuti e poi bagnarlo oppure eliminarlo correttamente. Il primo di gennaio spesso accadono incidenti anche di chi raccoglie un fuoco inesploso. Questo è il problema più grande, quindi sia nell'immediato che anche a distanza di tempo, gli artifici pirici che non sono esplosi non vanno raccolti, vanno bagnati e poi smaltiti correttamente. Eventualmente, se si trovassero artifici non esplosi che non appartengono alla persona che li ha trovati, è possibile fare segnalazione alle forze dell'ordine che provvedono alla rimozione.